Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, proseguiamo il Tour de Force del Gigione con le schedine e bollettine dei campionati europei. Allora, dopo aver fatto il campionato tedesco, perché questa sera si gioca alle 20.30, facciamo anche il campionato francese, visto che stasera si gioca alle 21, c'è la passeggiatina di salute teorica, tifosi del Paris Saint Germain toccateli, perché ho detto passeggiata del salute del Paris Saint Germain contro l'Hungers, non si sa mai, magari gliela tiro. Comunque, Paris Saint Germain-Hungers 1. Passiamo alle partite di sabato, che sono solo due, Clermont-Lille-X2 e Lione-Monaco 1-X. Proseguiamo con Trois-Nizza-X2. Bordeaux-Nant, partita da Aiuto, Aiuto, Arriva, Lupo, 1-2. Metz-Ren, 2. Brest-Rams, 1-x. Strasburgo-Saint-Etienne, 1-x. Montpellier-Lens, X2. Marsiglia-Lorient, 1. Schiedini alternativa Paris Saint Germain Angers over 2,5 o volendo gol perché ultimamente il Paris Saint Germain è sempre 2 a 1 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1 e quindi magari il gol potrebbe anche uscire Clermont-Lille over 1,5, Lyon-Monaco gol Troyes-Nizza over 1,5, Bordeaux-Nan over 1,5, Metz-Rennes over 1,5, Brest-Rennes over 1,5 Strasburgo-Saint-Etienne gol a mio rischio pericolo Montpellier-Lens over 2,5 a mio rischio pericolo e Marsiglia-Lorent over 2,5 Proseguiamo con le bollette del gigione ho scelto come sempre quattro partite che sono Troyes-Nizza Metz-Rennes, Strasburgo-Saint-Etienne e Marsiglia-Lorent partiamo con la bolletta delle fisse a cui io consiglio di un paio di doppie metterle io non posso perché si chiama bolletta delle fisse quindi devo mettere solo fisse Troyes-Nizza 2 Metz-Rennes 2 Strasburgo-Saint-Etienne 1 Marsiglia-Lorent 1 con 5 Euro-Saint-Etienne con 54,27 bollettina numero 2 Troyes-Nizza multigol ospite 1-3 Metz-Rennes multigol ospite 1-3 Strasburgo-Saint-Etienne multigol casa 1-3 Marsiglia-Lorent multigol casa 2-4 con 5 Euro-Saint-Etienne 17,47 bollettina numero 3 Troyes-Nizza x2 piover Metz-Rennes 2 piover Strasburgo-Saint-Etienne 1 x piover Marsiglia-Lorent 1 x piover con 5 Euro-Saint-Etienne 27,10 il 5 volte abbondante era posto potrei lasciare solo quella però c'era quella partita lì che chiamava proprio ti diceva giocami fissa giocami fissa che vinci e quindi rischiamo bollettina alternativa Troyes-Nizza x2 piover Metz-Rennes x2 piover Strasburgo-Saint-Etienne 1 x piover Marsiglia-Lorent 1 x piover con 5 Euro-Saint-Etienne con 34,73 gli over come sempre sono over 1,5 così non me lo chiedete andiamo a fare la bollettina numero 4 che a me fa libidile Troyes-Nizza x2 piover Metz-Rennes x2 piover Strasburgo-Saint-Etienne x2 piover Marsiglia-Lorent 1 x piover con 5 Euro-Saint-Etienne con 22,30 bollettina numero 5 purtroppo non vi posso fare le imitazioni per una partita una partita purtroppo il gol piover non è favorito Troyes-Nizza x2 piover Metz-Rennes x2 piover Strasburgo-Saint-Etienne x2 piover Marsiglia-Lorent x2 piover con 5 Euro-Saint-Etienne x2 piover con 123,25 però attenzione perché Metz-Rennes il gol piover non è favorito c'è una differenza intorno allo 0,50 a favore del no goal più under quindi tenetene conto e poi usate la vostra cava essa andiamo alla bollettina numero 6 Troyes-Nizza x2 piover Metz-Rennes x2 piover Strasburgo-Saint-Etienne x2 piover Marsiglia-Lorent 1 piover con 2 Euro-Saint-Etienne x2 piover con 385,62 con 5 Euro-964,05 però tutti e quattro i gol non sono favoriti quindi bolletta alternativa Troyes-Nizza x2 piover Metz-Rennes x2 piover Strasburgo-Saint-Etienne x2 piover Marsiglia-Lorent 1 piover con 2 Euro-Saint-Etienne x2 piover con 5 Euro-404,76 Questa è la classica bollettina in cui è abbastanza improbabile che escano o tutti i quattro no goal o tutti i quattro goal senza saperne leggere né scrivere come si suol dire io non so perché anche se è quella meno favorita io vedo bene il gol in Metz-Rennes però vi dico è quella meno favorita di tutte al gol in Strasburgo-Saint-Etienne ce lo vedo abbastanza un po' meno in Marsiglia-Lorent e Troyes-Nizza ma non vuol dire perché anche Troyes-Nizza è quella più favorita al gol più favorita tra le sfavorite si intende perché è il gol il no goal è molto favorito in questa partita poi sapete benissimo che il campionato francese tendenzialmente non segnano tantissimo poi c'è sempre una partita 6 gol 7 gol eccetera eccetera le altre 1 a 0 0 a 0 1 a 1 eccetera 2 a 1 non sono mai partite con una caterva di gol già il campionato tedesco sta facendo l'ebizzo ultimamente comunque qua ci sono tutte le opzioni come dico sempre usate la vostra cavesa che è importante prendete spunto da me vi piace mi copiate non siete convinti fate quella che vi convince di più non sono infamibili come vi dico sempre ho la pelata ma non ho la palla magica e quindi si prova se non provi diceva quello là hai già fallito quindi noi ci proviamo se va male chiedo venia se va bene è tanto di guadagnato anzi ormai non chiedo neanche più venia perché non sto più a a farvi le il controllo per intenderci quindi ve le gioco ve le invio come se fosse la bottiglia del naufrago con dentro il messaggio poi se la raccogliete copiate bene se la raccogliete prendete spunto e poi fate di testa vostra va bene uguale la cosa importante è metterli in tasca detto questo iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao